Ustric, bene bene, buonasera, allora Tony, ti sento bello pippante, ok, a te, saluto Liga Italia Zelanda 7, ecco, X-Ray Chillo, eh, via BKS Alpino, qui è India, Sierra Zero, Firenze, Roma, Venezia, Alessandro, eh, a te Tony, over ora. Ok, bene, ma che piacere, stasera qui con una pava, due piccoli, tre, un colpo solo, veniva lì, metto qui, non posso raccontare che vedi, te neanche, aspetta rapido. Ok, per te, per te, per te, per te, eh, va bene, così, caro, eh, Alessandro, anche per Giuseppe, mi ha fatto veramente piacere a sbattarvi, che direte che per l'ottamato la terra mi piace, mi piace il Dix quando c'è il bordello, poi con questa Alessandro, eh, e anche lì Giuseppe, aumenta di 300 watt e qui, se non potete toccare niente, la timbre che li spinge, che meraviglia, e perché si parlava delle specialità del Luigi, che lui era, io conosco molto bene la zona, e c'hanno tanta roba buona entro, e lui ha detto io po', io ho tentato, non si rimandava che va dentro di roba buona, lì, magari per il nord ci ha prento il fine, si mangia di fatto fatti, anche per Gonguru, perché io mangio tutto, eh, a te garovici italizzanti per il 7, un e c'ho il fredino, dei che uannacce over. Grazie a tutti.